Mezzanotte e 49, buonasera, ultima edizione del nostro telegiornale. La vicenda in primo piano del carabiniere ucciso la notte scorsa a Roma. Circa due ore fa uno dei due studenti americani firmati ha confessato al termine di un lungo interrogatorio. È stato lui ad uccidere il vicebrigadiere Mario Cercello Rega con otto coltellate. Sentiamo. Ore di interrogatorio e infine la missione. Sono stato io a uccidere il vicebrigadiere Mario Cercello Rega. Ha confessato uno dei due studenti americani fermati oggi a Roma. Sarebbe lui l'autore materiale dell'assassinio del carabiniere di 35 anni, originario di Somma, Vesuviana, provincia di Napoli, la scorsa notte nel quartiere di Prati. Il militare era a lavoro in borghese insieme a un collega mentre cercava di bloccare gli autori di un furto subito da un uomo a Trastevere. Che aveva chiamato i carabinieri raccontando di essere stato poi ricattato dai ladri che gli avevano chiesto 100 euro per poter riavere il suo borsello. Secondo i primi riscontri, due americani avevano rubato la borsa di un pusher per vendicarsi di avergli venduto aspirina invece di droga. All'appuntamento si erano presentati due militari ma quando il vicebrigadere si sarebbe identificato, uno dei due ragazzi americani ha tirato fuori un coltello e lo ha colpito otto volte. Un fendente fatale lo ha raggiunto al cuore. Poi sono scappati via in una fuga ripresa dalle tante telecamere di sorveglianza disseminate nella zona. Dopo indagini serrate e diversi interrogatori, gli inquirenti hanno fermato due ragazzi americani di 19 anni. Sarebbero studenti ma non della John Cabot University come trapelato nelle prime fasi dell'indagini. Uno di loro questa notte davanti ai magistrati ha confessato di aver colpito il carabiniere di essere l'autore materiale del diritto di Mario Cercello Rega, un militare dedito al volontariato tornato dal viaggio di nozze solo lunedì scorso. I suoi funerali si svolgeranno lunedì 29 luglio alla chiesa di Santa Croce a Somma Vesuviana, la stessa dove il carabiniere si era sposato poco più di un mese fa. La questione ai migranti adesso non autorizzerò nessuno sbarco fino a che tutti i migranti non verranno ripartiti nella comunità europea. Scrive così su Twitter il ministro degli interni Salvini che non ha ancora assegnato nessun porto per la nave Gregoretti ferma a largo delle acque di Lampedusa con a bordo 135 migranti. Un caso molto simile a quello avvenuto per la nave Diciotti nell'agosto dello scorso anno quando 177 migranti rimasero fermi al porto di Catania per 5 giorni. I migranti salvatiglieri sono stati soccorsi da una motovedetta dalla Guardia di Finanza e da un pescherezzo siciliano, due operazioni effettuate in acque maltesi con la valletta che però ha rifiutato di concedere un porto di sbarco per le persone recuperate in mare. La politica adesso, tensione nella maggioranza sul fronte della manovra, Salvini attacca tria se il ministro dell'economia del mio governo dice che non si parla di taglio delle tasse, afferma il leader leghista, o il problema sono io oppure è lui. Più prudente Di Maio che pensa al taglio del cuneo fiscale e dice di non sapere dove saranno recuperate le risorse per la flat tax. Se non si va il voto, allora che ne valga la pena. Oggi il nuovo scalpo chiesto dalla Lega si chiama manovra e in un certo senso si chiama tria, perché Salvini pur di sfondare e ottenere la flat tax fa la riete e dichiara se il ministro dell'economia del mio governo dice che di tagliare le tasse non se ne parla, o il problema sono io o è lui. La minaccia di ottenere la flat tax anche in deficit rivela le spinte leghiste per colpire le figure di governo apparentemente più tecniche ma anche sempre più ingombranti. Il ministro dell'economia è lo stesso Conte che tra una settimana incontrerà la presidente della commissione UE. Di Maio per ora spalleggia sia Conte che Tria, ma deve vedersela coi malumori interni al movimento esacerbati dal sì alla TAV del Premier. Al momento gli esiti del voto di ieri e oggi sulla piattaforma Russo mostrano parametri vitali ancora buoni. Sul controverso mandato zero due terzi dei grillini sono a favore, su altre regole anche di più, ma gli equilibri sono giornalieri e Zingaretti dalla direzione PD evoca la mozione di sfiducia a Salvini. Spera così di disarticolare l'alleanza giallo-verde. Per ora anche senza opposizione la maggioranza si destabilizza da sé. Chiudiamo con lo sport, ribaltone al Tour de France di ciclismo. Il giovane talento colombiano Bernal conquista la maglia gialla sull'iserana scavalcando il francese Alaphilippe in una tappa che è stata poi sospesa per il maltempo. Nella settimana più calda di sempre il Tour de France è stato fermato da una giornata che più invernale non poteva essere. Una fitta grandinata ed una serie di frane di neve sciolta, fango e ghiaccio hanno costretto gli organizzatori a neutralizzare la diciannovesima tappa, proprio quando la lotta per il primato stava diventando incandescente. In testa, dopo il ritiro di Thibaut Pinot, la coppia è composta dal britannico Simon Yates e dal colombiano Ega Bernal, che aveva preso il volo permettendo al sudamericano di conquistare la maglia gialla virtuale. Poi l'interruzione che ha cristallizzato la classifica con Bernal, nuovo leader con 48 secondi di vantaggio su Alaphilippe e un minuto e 16 secondi sul compagno di squadra Thomas, vincitore 2018. Non c'è stato un primo classificato di tappa e la carovana ha dovuto faticosamente raggiungere Tigne. Domani si torna a salire con la penultima frazione. Nella tarda serata il percorso è stato accorciato da 130 a soli 59 chilometri a causa della impraticabilità di parte del percorso. Non ci saranno quindi alternative, Alaphilippe dovrà a tutti i costi attaccare. È una sorta di missione impossibile, ma a spingerlo ci saranno migliaia di tifosi francesi decisi a rivivere le emozioni del trionfo 1985 di Bernard Rinault. Ed è tutto, l'informazione torna domattina alle 7 con la rassegna stampa. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento.